Qui siamo praticamente in una fascia laterale di villa borghese, qua c'è il museo d'arte moderna, di là ci sono varie ambasciate e da questa parte, poco più avanti c'è la scalinata dove si è svolta la celebre battaglia di Valle Giulia nel 1968 per i fatti della contestazione studentesca operaia e qua c'è tutta l'insieme delle realizzazioni degli edifici dell'Università di Architettura di Roma e qua siamo davanti alla statua di Simon Bolivar. Eccolo qua che noi periodicamente omaggiamo del nostro tributo e riconoscenza per le grandi opere che ha fatto in favore dell'umanità intera e non solo del Sud America e non solo del fine del colonialismo in giro per il mondo e così via, è per in qualche modo interpretare una società libera e non schiavistica. qui siamo vicino a un altro busto là dietro, là giù in fondo di O'Higgins che è un altro libertador del Cile, che è morto nel 1842, è diventato capo del Cile. Poco dopo che morse è il libertador Aldebaran, Simon Bolivar. Qui invece abbiamo un altro libertador, speriamo il nostro futuro, il nostro libertador, eccolo qua, prendiamo anche dietro, così ce l'hai perfettamente dietro, eccolo qua, è a posto. Comincia?